Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana Che buona ricetta che andiamo a fare oggi Ma è qualcosa di spettacolare Cioè, spaghetti, che poi uno può utilizzare le linguine, le bavette, le fettucce Utilizzerò la realtà delle fettucce, poi dopo il titolo vediamo Se metto spaghetti, non lo so Perché a me piace fare un po' così Voi già lo sapete, perché l'avete già vista Io non lo so ancora, quindi devo ancora decidere Con le vongole e i gamberi In realtà gamberoni Perché proprio mi piace questo effetto ottico che vanno a creare Ma soprattutto l'effetto del sapore Il segreto di questa ricetta, ragazzi, è la qualità dei prodotti Allora, andiamo a vedere quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno E cominciamo la nostra preparazione Lo chiedo mucho Grazie per i miliardi di messaggi che mi state mandando Poi dopo ve lo ricordo Vieni qua, vieni qua, vieni qua 3, 2, 1, vai con la sigla Olè Vediamo dunque quali sono gli ingredienti che ci servono per realizzare questa deliziosa ricettuzza Cominciamo dalla pasta Abbiamo bisogno di 200 grammi di spaghetti, bavette, linguine Insomma, pasta lunga, quella che volete Poi 300 grammi di gamberi Vanno bene gamberi, gamberoni, eccetera, eccetera Meglio se ci fosse alla testa, però peccato, in questo caso non c'è Poi le vongole, mi raccomando, pulitele bene, spurgatele bene Già vi ho fatto vedere tante volte come fare per evitare di trovarci la sabbia all'interno Ne abbiamo bisogno di 500 grammi Olio extravergine di oliva, ragazzi, questo è l'olio del mio carissimo amico Giuseppe Ho fatto un video per far vedere come nasce quest'olio E' unico al mondo perché è ricavato da piante più alte di 30 metri Quindi qualcosa di spettacolare Il basilico Il prezzemolo, importante Il sale, solo per l'acqua di cottura della pasta Un limone, faremo una cosa spettacolare col limone Uno spicchio d'aglio abbastanza grosso Poi tre pomodorini non di più e peperoncino al gusto Pepe perché ha un sapore diverso dal peperoncino E poi dello spumante brut Un buon spumante La qualità dei prodotti renderà questa ricetta spettacolare Cominciamo dunque la preparazione Cominciamo dall'aglio Potete lasciare l'aglio intero Lo potete semplicemente schiacciare Mettere in padella Fare insaporire l'olio Oppure sia in camicia che senza camicia Dipende dall'intensità del sapore dell'aglio che desiderate Fatto in questa maniera Sbremelo Potete mettere direttamente all'interno della padella con l'olio Oppure Come vi consiglio io per questa ricetta Che cosa facciamo? Eliminiamo prima la pellicina Poi si elimina il germoglio centrale Nell'aglio fresco il germoglio centrale non c'è Quindi voi comunque apritelo Verificate Nel caso in cui non ci fosse Non lo eliminate Perché se non c'è come fate eliminarlo Dopodiché si trita molto finemente Perché si elimina il germoglio centrale? Perché è quello che crea un po' di reflusso gastrico È quello che crea un po' l'alitosi E fatto così l'aglio non crea nessun tipo di problema Cioè tranquilli Ok? Tritato molto finemente In questo modo Lo sbrem possiamo già inserirlo all'interno della padella Stessa cosa la facciamo con il peperoncino Se avete del peperoncino fresco Ma proprio bello fresco Bello con io sto utilizzando questi piccolini Ma se avete quello bello fresco Che poi non è neanche chissà quanto piccante È veramente spettacolare È veramente molto meglio Quindi sbrem anche il peperoncino all'interno della padella Passiamo alla preparazione dei gamberi Sì ragazzi perché una cosa importante è Prima di cominciare a cucinare Ricordatevi di avere tutto pronto Ok? Allora dicevo Passiamo alla preparazione dei gamberi Eliminare il carapace Se ci fosse la testa sarebbe anche meglio Perché negli scarti la testa Sarebbe quella che poi rilascerebbe molto molto sapore Comunque Rimaniamo un attimino sulla coda E facciamo finta di aver tolto la testa insieme al carapace Quindi facciamo con un coltello Un'incisione così sul dorso Della coda del gambero Perché? Perché all'interno c'è l'intestino Ok? Questi sono di mare E quelli di mare generalmente Ce l'hanno quasi sempre pulito Come in questo caso Però l'intestino bisogna eliminarlo Vedete? Nella parte nera qui dove c'è il dito Esatto C'è della sabbia Ok? Quindi per questa ragione L'intestino va sempre eliminato Dopodiché la coda Voilà E ce l'ho fatto La dobbiamo tagliare così A metà Vedete? Perfetto Questo è l'effetto ottico Di cui parlavo nella fase iniziale Ora Prendiamo tutti gli altri scarti Quindi la testa ipoteticamente E tutto il carapace E li mettiamo nella parte bassa della pentola E cominciamo così a fare andare Ok? Prima di cominciare la cottura della pasta Per lo meno Per una decina di minuti Questo a che cosa serve? Serve proprio Per insaporire L'acqua di cottura della pasta Ok E voilà Anche i gamberi sono pronti Li teniamo un attimino da parte Passiamo ai pomodorini Gatterino Pacchino Insomma Questi ciliegini Vanno benissimo Ma giusto tre Non devono essere di più di tre Perché Servono proprio per bilanciare Il livello di acidità E basta Li tagliamoci Quindi facciamo una dadolata Una mirepoix Veri veri finementi Passiamo al prezzemolo Bisogna tritarlo finemente Però per farlo in maniera corretta Che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto va lavato perfettamente Per eliminare le porcherie che ci possono essere Asciugato perfettamente Perché se per caso dovessimo tritarlo Quando è ancora bagnato Faremo un bel pappone Ok? Una roba orribile Tutto il sapore Tutto il profumo Lo troveremo sul tagliere Dopoiché Facciamo Un bel pugnetto Solo con le foglie Del prezzemolo E poi Con il coltello In questo modo Pada pam Pada pam Pam Lo andiamo a tritare Perfettamente Anche se non andiamo E lo tritiamo e basta Senza andare Viene bene Lo stesso Comunque non so se Ci fate caso Quanto è bello sto coltello Quanto è bello sto coltello Bellissimo Lo so che molti di voi Stanno aspettando il disastro Che ho fatto Nella Nella prova dell'assaggio Ragazzi È stato veramente Però Vi dico una cosa Allora Mi è caduto Il piatto Sopra il piatto Che avevo sul tavolo Il piatto vuoto Ed è per quello Che mi si è salvato Però Comunque ho pianto Ho pianto Veramente tantissimo Comunque Vabbè Poi dopo ve lo racconterò In un vlog Cominciamo La cottura Della pasta Perché abbiamo tutti Gli ingredienti pronti Quindi l'acqua bolle Abbiamo fatto bollire gli scarti Del gambero Scarti nobili A reccezione dell'intestino Ovviamente Per una decina di minuti Quindi mettere il sale Dopodiché È possibile Calare la pasta All'interno della padella Nello stesso momento In cui cominciamo La cottura della pasta Cominciamo anche La cottura All'interno della padella Quindi Olio extravergine di oliva Del mio amico Giuseppe Mi raccomando È importante Un buon olio Extravergine di oliva Facciamo un bel soffritto A fuoco basso Perché dobbiamo sentire Proprio tutti i profumi Tutti gli aromi Tutti i sapori E credetemi Quando utilizzate Il nostro olio italiano È qualcosa di fantastico Di meraviglioso Mi raccomando Tenete il fuoco basso Perché altrimenti Si brucia rapido Quindi Sbrem All'interno Le vongole Apriamo Lo sfumantello Sfumante brutto Io sto utilizzando il gurello Questo è stato premiato Nel 2019 Come miglior sfumante A livello mondiale Quindi Qualcosa di Fantastico Di spettacolare È un brutto Ok Non utilizzate roba dolce Per cucinare Perché è uno scandalo E poi questo sfumantello Lo tenete da parte Potete utilizzare Berlucchi e Ferrari Quindi non è che sto facendo Una promozione a un prodotto Potete utilizzare Quello che volete E l'importante È che poi dopo Lo utilizzate anche Per giucciare Quindi per bere Mettere il coperchio Non importa Si mette subito il coperchio E aggiungiamo anche I pomodorini Una punta Proprio poco poco Di prezzemolo Il prezzemolo Lega bene con le vongole Mentre il basilico Se ci avete fatto caso C'è anche il basilico In questa ricetta Lega molto bene Con il gambero Un pochino di pepe E poi le facciamo aprire Non è importante Che evapola Tutta la parte alcolica Non è importante Assolutamente Quindi tranquilli Sbrem Lasciamogli il coperchio Fino a quando Non si sono aperte Perfettamente Rispondo a una domanda Che sicuramente In molti mi farete Ma il prezzemolo Non rilascia Una leggera tonalità Amarognola Quando ne ho messo Pochissimo Pochissimo Anche l'amaro È un sapore Importante E serve per contrastare L'eccesso di dolcezza Del gambero Quindi una punta Ci vuole Ok Passiamo al limone Adesso vi faccio vedere Una cosa ragazzi Che questo è veramente Il top Dei top Dei segreti Ma proprio È quel qualcosa Che dici No vabbè Ma adesso Come ho fatto A vivere prima Senza Non lo so Non lo so come hai fatto Allora Lo zest Prendiamo Soltanto La parte gialla Della buccia Del limone L'abbiamo grattugiata Per bene E aggiungiamo Un pochino Di olio Extravergine di oliva Et voilà Ragazzi Pensate Agli oli essenziali Contenuti Nella buccia Che si legano All'olio Il sapore Di quest'olio Come può diventare Fantastico Ragazzi Appena le buvole Si aprono Fuori Immediatamente Cioè Via 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 Subito fuori Dalla Padella Mi raccomando Controllate Il fondo Quindi L'acquetta Che c'è Sul fondo Per Verificare Che non vi sia Della sabbia All'interno Nel caso Filtratela Ok Filtratela Con un colino A maglie Molto fini Però Se avete fatto Il lavoro Fatto bene Problemi Zero Non ce ne Dovrebbero essere Quindi Zero sabbia Zero titoli E a questo punto All'interno Di questa Acquetta A fuoco Medio Andiamo a Scottare Il gambero Quindi Guardate Come si arriccia In maniera strana Diversa Come diventa Bello Ecco Ora Immaginate Il sapore E il profumo Che inizia Ad avere Circondato Le mie papille Gustative Mamma mia Ma che cosa Non è Quanto tempo Deve cuocere Il gambero Poco Nel momento In cui Diventa Bianco E che si arriccia Stop Anche perché Questa diciamo Che non è proprio La cottura Finale Questa è una Pre cottura Ok Quindi Guardate Io ve lo faccio Vedere in diretta Il tempo reale Che serve per cucinare Le code Di gambero È quello Che vedete Nel video Quindi voi Metteteli Quando le metto Io E tirateli fuori Quando li tiro fuori Io Fuoco Medio Vedete Che non sta Sta facendo Le bollicine Piccoline Piccoline Non è che sta Facendo Non c'è il sole Qui Ok Vulcano No Fuoco normale E poi via Fuori subito Fuori subito Fuori subito Fuori subito PS Le vongole Dopo averle tolte Se volete fare i fighetti Le potete sgusciare Una parte Una parte Solo per la decorazione Però comunque Tenetele coperte E per quanto riguarda I gamberi Anche quelli Teneteli coperti Manteneteli in campo A questo punto Guardate la pasta Perfetto Sbrem Termineremo di cucinare La pasta Qui All'interno Di questa acquetta Rilasciata Dalle vongole E insaporita Con I gamberi Immaginatevi Il tripudio di sapori Ma non è finita Ragazzi La pasta L'abbiamo tirata fuori Che è molto Molto al dente Quindi dobbiamo Terminare la sua cottura E per farlo Utilizzeremo L'acqua di cottura Della pasta Acqua di cottura Insaporita Da che cosa? Dal carapace Nel gambero Quindi dalla testa In questo caso Se voi L'avete Presi con la testa O comunque dal carapace Che rilascia Un gran Ottimo sapore La pasta Già Ha preso I suoi sapori Durante la fase di cottura E terminiamo così La cottura Mattone Profumo Che bellissima Ti dico Di acqua E voilà Che spettacolo Vabbè Questo è proprio Già Hai capito No? Ma che cosa Te la devo fare? Mmm E voilà Ragazzuoli Ci siamo Abbiamo portato La pasta A cottura Che spettacolo Che profumo Che meraviglia Per quanto riguarda Per quanto riguarda La quantità Di acqua Da aggiungere È quella Che serve Per sfumare La crema Ok? Quindi se volete Più cremosa Mettetene un po' di più Se la volete Meno cremosa Mettetene un pochino Di meno Quindi All'interno Della padella Inseriamo Nuovamente I gamberi E le vongole E bisogna alzare il fuoco Bisogna alzare il fuoco Perché dobbiamo Portare tutto A temperatura Quindi per quello Che vi ho detto Molto bene al dente Molto bene al dente Mettere il coperchio Far sfrigolare Per bene Se per caso Dovesse essere necessario Si può aggiungere Ancora una punta Di acqua Di cottura Della pasta E poi Sbrem Quando sfrigola Tutto bene E quindi Sono sufficienti 30-40 secondi Quando sentite Proprio che Il rumore È preciso È quello Della cottura perfetta Spegnere immediatamente Il fuoco A questo punto Sì perché Dobbiamo dare una bella Importante Abbondante Spolverata di prezzemolo Un po' Di un bo' Un pochino di pepe Ragazzi Guarda È un piatto Che fa male Questo fa male Fa male Fa male Fa male Fa male Ma il fatto è che fa bene Veramente anche alla salute Perché c'è Piene di vitamina Tante vitamine Buone Ok ci sono i gamberi Insomma lasciamo stare questi discorsi Comunque Andiamo dunque ad impiattare Ragazzi C'è veramente Che spettacolo Ma che cosa Non è I don't know E la cosa che mi rende più triste Di tutte È che questo piatto Si romperà Fra un po' Però Fa niente Tanto l'avete già visto Quindi è inutile che Però la cosa positiva È che sono riuscito A salvare il tutto Nel senso che In realtà Non è questo che si rompe Ma è l'altro piatto Che avevo sul tavolo Dove questo Mi è caduto sopra l'altro E me l'ha rotto Infatti si vede L'altro piatto rotto Che è pulito In quello spezzone di video E questo mi è scivolato Sul tavolo E Però è rimasto lì Sul tavolo Ok Io ho fatto Un'ode a Eva Va bene ragazzi Dai comunque Ho salvato il tutto E Vi ringrazio per la vostra attenzione Vi ricordo di iscrivervi al canale Se non l'avete fatto Vi condivido il video Con tutti quanti i vostri amici Vi metto un bel mi piace Perché per me è molto Molto importante Inoltre vi ricordo Che in tutte le librerie In tutti gli store online È disponibile il mio libro La cucina per tutti Di Stefano Barbato Ebbene yes E per quanto riguarda Quell'ultimo dettaglio Di cui vi avevo parlato Ovvero di quella salsina Di olio Che non è una salsina Ma che è semplicemente Dell'olio Aromatizzato con Lo zest Del limone Beh Quello serve per chiudere Il piatto Un po' di basilico Un po' di pepe E anche un po' di prezzemolo Perché comunque Il prezzemolo Lega molto bene Con la vongola Mentre Il basilico Lega molto bene Con il gambero Quindi Riusciamo così Ad ottenere Qualche cosa di spettacolare E vabbè Niente Questo Questo olio Aromatizzato Allo zest È qualcosa di spettacolare E poi Sbrem E adesso Andiamo a fare la prova Dell'assaggio Mi consente Scusatemi di fretta Ma ovviamente Ci vi faglielo vedere Vedere bene bene Ho fatto una linguina Una bavetta Uno spaghetto Scusatemi di fretta Va bene ragazzi Scusate Non ce la faccio più Ma di me se c'è un gamberetto Ecco La pasta Ha una Un'armonia Un sapore Che non si può descrivere È delizioso E poi il gambero Gli dà la ciccia Non ce lo posso spiegarcelo Andiamo qua Vediamo Suggiamo che la roncola No Vabbè Che cosa da me Ragazzi Scusatemi Sto stando Tio fame Lo chiero mucho Provate Ho fatto Buono domenica Buono sabato Buono lunedì Lo chiero mucho Ora sai come si fa Aspetta Aspetta E perché non è che Uno può Mangiare sta roba Senza bere Qualcosa di Spettacolare Io ci devo andare piano ragazzi Voi però Fatevi male Che cosa Devo sovrere A fare Ma che bontaggine La vongolaggine Il gamberonaggine Che qua Ciao Ok Ciao Ciao Sì